Eccoci qui, un saluto ben ritrovati, una buona domenica, vi invito come sempre a commentare numerosissimi, a lasciare un bel like e iscrivervi da questa parte, mi raccomando, attivate la campanella numerosissimi. Allora, a volte vado a braccio, a volte mi segno le cose, mi sono segnato un sacco di cose, un sacco di cose perché ci sono mille, mille, mille spunti e sono tutti purtroppo negativi. Ci siamo rovinati il campionato con le nostre mani a novembre, sto parlando al plurale, poi andiamo al singolare. Ci siamo buttati via le speranze di provare a vincere la Scudetto della Stella a novembre. E questo è grave, è inaccettabile, è insopportabile, dà un fastidio qui, dà proprio quell'idea di, mamma mia, di dispiacere, parlando di calcio ovviamente, so che ci sono cose più importanti fuori dal pallone e dal rettangolo di gioco, ma così ci siamo infilati in una situazione che è diventata insopportabile, inaccettabile. Io dico non si può più andare avanti così e se siamo avanti così si è consapevoli di quello a cui si va incontro e in qualche modo si è complici di questa situazione se si decide di non cambiare. Di solito c'è il video delle pagelle, mi faccio sempre il foglio, per me oggi le pagelle sono un po' superfule. Lasciatemi dire che cosa possiamo segnalare. Cheminiano ha fatto una paratona pazzesca, pazzesca, che passa in secondo piano per quello che è successo, ha preso quel gol da piccoli, grave, errore grave, però è stato tolto. La parata era pazzesca, segnaliamo che cosa? Che fino a un certo punto ci eravamo mossi molto bene in difesa, segnaliamo che Reinders aveva fatto una bella partita, aveva trovato la via del gol, poi ha preso un palo e si poteva fare meglio. Segnaliamo che Giroud ha fatto un'altra rete, però poi si è fatto i spelleri in maniera inaccettabile. Giroud ti si vuole un gran bene ma non bisogna lasciare la squadra in dieci e soprattutto rischiare di andare incontro a una lunga squalifica. Attenzione, perché potrebbe rischiare quattro giornate di squalifica dal nuovo regolamento. Significa quattro giornate con Jovic? Da mettersi le mani nei capelli. Unciuquezze che ancora non ha cambiato ritmo, per il resto ci sono note dolenti, tantissime note dolenti. Tante, tante note dolenti. Parto dai giocatori, perché se no mi si dice che ce l'hai solo con Pioli. Parto con i giocatori e dico che Meniano alla fine deve stare più attento, fortunatamente c'era il fallo. Dico che Teo può essere più costante nella partita e non deve stare lì a terra, perché lì abbiamo perso un uomo. Tanto la palla ci aveva dato a noi, ci aveva dato il vantaggio, rialzati, che magari vai a recuperare. Quelle scene io sono stufo di vederle, Teo purtroppo spesso o si lascia andare o sta a terra così. Rialzati, se non buttano fuori la palla e si gioca, rialzati. Di giro abbiamo detto, comunque è imperdonabile farsi speller anche se sei nervoso e quel nervosismo è evidente ed è fotografia secondo me di qualcosa extra a partita e di quel fallo che non è stato fischiato. Per il resto, Krunic 90 minuti di gioco, sono incredulo di come Krunic abbia fatto 90 minuti di gioco, sul loro primo gol salta vuoto. Poi Musa che commette un errore dietro l'altro. E poi il solito gol, prendiamo sempre il solito gol, fotocopia, sempre su palla inattiva, e il gol preso che è uguale a quello con il PSG. E tu dici, ho appena sbagliato, caspita. No, risuccede la stessa identica cosa. Quindi una squadra che dei propri errori non impara. Mi sono dimenticato qualcosa? Non credo di essermi dimenticato qualcosa. E adesso arriviamo però all'insieme. Arriviamo all'insieme e vediamo che il Milan, nelle ultime quattro partite, ha fatto due sconfitte. Una tra l'altro con l'Udinese in casa nostra, prima vittoria dopo l'8 maggio scorso dell'Udinese. E due pareggi che stanno tanto di sconfitta, perché sei sul 2-0 e poi vai sul 2-2. Rimonte scandalosa con Napoli, anche se è Napoli, scandalosa con Lecce che è il Lecce. Due rimonte in cui tu puoi chiudere la partita, hai più occasioni, no, la riapri, la pareggi e quasi la perdi. Stesso identico copione. E' successo con il Napoli, Varaschei alla fine loro in 10 contro 11 quasi ci fanno gol. E' successo con il Lecce che ci aveva fatto gol e poi c'è stato quel pestone. Parto prima dal campo. E dico, e dico. Ho detto già di Krunic 90 minuti in campo, è una cosa che non concepisco. Con il risultato che quasi Krunic adesso ci diventa sportivamente antipatico, ma non è colpa sua, è colpa di chi lo fa giocare sempre comunque. Cioè chi sta in panchina, cioè Pioli. Prima della partita si scopre così. Ogni volta. Prima della partita si scopre che qualcuno è fuori. Loftus-Cic. Che è un infortunio mascherato, perché comunque lo porti in panchina, se mai vista. Non può giocare, ma lo lasci in panchina. Però non può entrare. Sotto gli infortunati vanno in tribuna. Per mascherare, che se no è un'altra assenza, è facciamo così, una via di mezzo, un pastrocchio. Di fatto non hai Loftus-Cic. Per un problema muscolare, affaticamento, quello che volete. Krunic più Pobega. Vabbè, abbiamo giocato un buonissimo primo tempo. Dico che Adli è sparito, eh. Adli è sparito. Cioè Pobega che è muscolare, Krunic pure. Poi ti fa giocare magari Adli per uno dei due per Krunic. Adli è sparito. Alla faccia della valorizzazione, mi sta piacendo, eccetera, eccetera. Sparito. Chiaramente i giocatori che hanno l'occasione devono buttare dentro la palla, quindi hanno responsabilità anche sull'errore, la punizione, il calcio d'angolo. Dopodiché, dopo otto minuti, il secondo scatto si fa male Leao. E anche questa volta abbiamo un infortunio muscolare pronti via. Sempre, 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 sempre così. All'intervallo è il turno di Calabria. Affaticamento. Perché poi o si fanno male o hanno paura di farsi male. Cioè se tu fossi un giocatore del Mina non avresti paura di farti male pure tu, vedendo tutto quello che sta accadendo attorno. Magari al minimo sentore ti fermi e dici no, esco. Calabria è uscito. E mi va a mettere Musa. Che in una settimana ha fatto. L'esterno in un 4-4-2. Ha fatto il mediano in un 4-2-3-1. E poi ha fatto il terzino. Noi stavamo vincendo una gara. L'ultima, sembra passata una vita, è del 7 ottobre. Più di un mese fa. Non vincevamo dal 7 ottobre. Stavamo portando a casa tre punti. Non facciamo cavolate, non inventiamoci cose. Non facciamo i fenomeni. E invece, la genialata, il colpo a stupire, per prendersi gli applausi, per vedere che lui ha inventato Musa, terzino. Prima della partita, però, avevamo capito che Musa non giocava a titolare perché doveva riposare. All'intervallo non deve più riposare. Qualcuno maliziosamente ha detto no. Non si deve riposare, deve far giocare cronici. Allora dice che deve farlo riposare. Ma il 45esimo era riposato. Entra da terzino. Commette un errore dietro l'altro. Magari sentendo anche un po' di singurezza per un ruolo, che non è il suo. Ma io dico, ma dimostra intelligenza. Se tu pareggi la partita e hai fatto una scelta del genere, quella scelta finisce in prima pagina. Fatti furbo. Fai le cose che avrebbero fatto tutti. Metti Florenzi. Nessuno ti dirà se pareggi la partita e hai dovuto mettere Florenzi perché non hai messo Musa. Ma fatti furbo. Manca anche la furbizia in questo momento. No. Ci inventiamo. Si inventa. Musa terzino. Perché dall'altra parte hanno banda. Velocissimo. Avessi detto Mbappé. Cioè noi facciamo un cambio mettendo un giocatore fuori ruolo. Non perché ci mancano giocatori. È l'unica cosa che possiamo fare. Ma scientemente perché c'è banda. Avessi detto Mbappé. Poi dopo il disastro. Al settantesimo toglie Povega. Mette Musa in mezzo al campo. E le mette dietro Florenzi. Per banda noi siamo andati a snaturarci. A mettere un giocatore fuori ruolo. Non noi. Lui. E purtroppo questi errori non si contano più. Quanti errori sta facendo. In ogni partita. Io gli ho dato un bel voto col PSG. Bravo. Però è una partita. Una partita. Con Ludinese abbiamo perso. Con Lecce ci siamo fatti rimontare. Con Lapa ci siamo fatti rimontare. Con la Juve abbiamo perso. Col PSG abbiamo perso. Ragazzi. In questo segmento. Sosta sosta. Abbiamo fatto una vittoria col PSG. E poi abbiamo fatto. Tre sconfitte e due pareggi. Vi rendete conto. E in ogni sconfitta o pareggio con rimonta. c'è sempre la sua mano. Sempre la sua mano. Con la Juve. Difesa alta. Come con l'Inter. E ci infilano. Con il PSG. Difesa alta. Tanto. E ci infilano. Con il Napoli. All'intervallo. Mette Romero. Al posto di Pulisic. Romero al posto di Pulisic. E ci rimonta. Noi rischiamo di perderla. Con l'Udinese. 4-4-2. Cambiamo modulo. Le due punte. Così. Buttata lì. E subito bocciata. Col PSG vinciamo. Ma è stata una vittoria illusoria. A questo punto. E ieri. C'è questa. Scelta. Molto bizzarra. Ha sempre una responsabilità. E signori. La responsabilità che è indiscutibile. è il tema infortuni. È diventata una cosa ridicola. È diventata una cosa. Che mi fa venire un nervoso pazzesco. Lo diciamo da tempo. Lo diciamo da tempo. Da tanto tempo. Ieri quindi. Loftus prima. Leao poi. Intervallo Pulisic. Intervallo. Intervallo. Calabria. Cos'era successo con il Napoli. Chier prima della partita. Sappiamo che non possiamo utilizzarlo. Infortunio. Calulu. Pronti via. Intervallo Pulisic. Stesso identico copione. Ci hanno rimontato allora. Ci hanno rimontato ieri. Hanno rischiato di farci. Perdere allora. Hanno rischiato di farci perdere ieri. Stessa identica cosa. E gli infortuni. Non sono da detebitare la sfortuna ragazzi. E qualcuno ce l'ha detto anche. Ma capitano anche in altre squadre. Ma chi volevano prendere in giro? Sicuramente non noi. Qualcuno ci è anche cascato. O si è prestato. Non noi sul tema infortuni. Adesso forse tanti si accorgono che. Perdiamo due giocatori o tre giocatori ogni partita. Così. Non si va da nessuna parte. È troppo penalizzante. Troppo. E magari inizi bene. Poi ti perdi. Non va bene. Ma ti perdi. E io non ne posso più. Io lo dico. Lo ribadisco. Con Napoli. Ho criticato Pioli. Ma non solo. Con l'Udinese pure. Dopo l'Udinese ho detto. Per me il ciclo è finito. Game over. Col PSG ha vinto. Qualcuno ha detto. Ah vergogna. Ti chiedi scusa. No. Ho detto per me. Il momento è negativo. Ieri è arrivata questa sconfitta. Ribadisco. Ribadisco. Adesso faccio anche una cosa se riesco. Il ciclo. Di Pioli. È. Finito. Poi si potrà decidere di andare avanti. Si potrà decidere di far finta di niente. Per carità. Poi è lunga. È lunga arrivare a giugno. È lunga arrivare a giugno. Ma per me non si può più andare avanti così. È evidente. Possiamo andare avanti. Per carità. Non mi è piaciuto mai il termine out. Oggi lo scrivo. Oggi lo dico. Non se ne può più. Perché il campionato è andato. E adesso dobbiamo vederci. Oggi ci scavalca la magari in Napoli. Saremo quarti. Se il Bologna vince. Il Bologna va a meno due. E ditemi voi se abbiamo una rosa da più due sul Bologna. No. Abbiamo un allenatore che ha perso la bussola. E loro hanno un allenatore molto bravo. Hanno un allenatore che fa la differenza in positivo. Noi abbiamo un allenatore che fa la differenza in negativo. Tema infortuni. Tema scelte. Non si può più andare avanti così. Non si può più andare avanti così. Non ne frega se non c'è l'alternativa. Se devi pagare. Il campionato ce lo siamo giocato. E se si va avanti così. Si riesca di arrivare neanche nei primi quattro posti. È assurdo. Ma ci siamo infilati in questa situazione. Poi i giocatori hanno responsabilità. Per carità. Quando si perde. Si fa male. Ci sono ognuno la propria componente. E il mercato. La punta che manca. E i giocatori che stivano dare una svegliazza. E essere più concentrati. Però il filo conduttore per me è Pioli. Le scelte. E gli infortuni. Sono due responsabilità. Troppo evidenti. E se qualcuno cerca di tenere nascoste. No. Vengono a galla. Emergono. Per me la misura non è colma di più. Grazie per lo scudetto. Ma è finita. Per me è finita. Lasciate un like se la pensate come me. Commentate numerosi. Iscrivetevi. Ci vediamo più tardi. Un abbraccio.